Lunedì 23 settembre e per molti è il giorno dopo, the day after del derby di Milano e come sapete io non ci capisco assolutamente niente di calcio allora anche in questo caso ho chiesto l'aiuto da casa e da casa mi ha raggiunto Sergio Meazzi, buongiorno Buongiorno, buongiorno e buon risveglio a tutti, buona giornata a tutti una giornata raggiante, con sole Abbiamo già capito da che parte della madonnina o del naviglio sta il nostro Sergio Meazzi Un pochino, un pochino, un pochino Ok, in realtà diciamolo, noi ci eravamo sentiti già prima già non è che c'è stato scritto ieri sera, domani vieni ci eravamo sentiti forse un paio di settimane fa dicendo voglio parlare di derby, vieni qui Oh, ti ho portato fortuna lei Direi di sì, a questo punto mi sa che tutti i derby dovranno necessariamente venire in studio Allora, com'è andata? Ne contiamolo per quei pochi che non l'hanno seguito Direi che per il Milan è andata molto bene Ok Per l'Inter, quasi messia della palissa sarebbe andata non troppo bene Un derby che credo che il Milan abbia assolutamente meritato e come sempre accade nel derby la squadra che è meno qualificata per poter fare risultato in realtà fa risultato e credo che sia una regola quasi fissa ormai del derby in generale Sì, in generale è sempre un po' così Devo dire che ho visto Si entra Papi e si esce Cardinali anche lì Esatto Devo dire che ho visto un Inter un po' sottotono rispetto all'Inter siamo abituati a vedere ma devo dire anche una prova di orgoglio del Milan che ha giocato molto bene Ecco, un risultato che però è arrivato all'ottantanovesimo o qualcosa del genere, no? L'ottantanovesimo Gabbia ha ingabbiato Piccola nota a margine Stamattina leggevo vari post in giro sulla rete di tanti anche miei amici che appunto usavano questo gioco di parole ingabbiato l'hanno messo nella gabbia e dicevo ma chi è Gabbia? Poi ho scoperto chi è Gabbia appunto? Chi è Gabbia? E abbiamo scoperto che Gabbia appunto è un difensore del Milan nato peraltro nella società Milan quindi viene dal vivaio è un giocatore da vivaio è l'unico forse italiano che ieri era in campo non vorrei sbagliarmi ma era l'unico italiano in campo Ok, io sono rimasto ancora quando si potrebbe mettere massimo tre Infatti erano i tre olandesi adesso bisognava mettere la regola almeno tre italiani Questo non perché prima gli italiani o così ma so che è tutta una questione ad esempio sul fatto che però poi la nazionale e quelle robe lì hanno difficoltà poi anche a trovare giocatori di livello perché poi appunto se si giocano solo gli stranieri è un casino, no? Sì, sicuramente è un calcio da rifondare insomma anche in qualche maniera Spalletti l'ha un po' ipotizzato con delle dinamiche diverse inventandosi magari qualcos'altro certo è che ovviamente non facendo giocare i giocatori italiani dei nostri vivai sicuramente anche la nazionale avrà delle difficoltà come poi ha avuto ma speriamo che magari questa riforma come tutte le riforme si dicono facciamo la riforma facciamo la riforma Ma all'estero come fanno? Quelli che vincono hanno delle regole hanno delle cose o hanno i vivai non hanno i vivai vengono a giocare i nostri campionati quindi è qui che fanno la gavetta No, lavorano in modo diverso intanto il calcio non è diciamo una religione quindi è preso un pochino molto largo c'è libera iniziativa così si può dire la prendono molto meno seriamente diventa proprio un gioco soprattutto gli inglesi e quindi probabilmente la produzione è più fertile Ok allora dopo andremo invece proprio nel vivo del derby perché voglio capire appunto facciamo una sorta di pagelle più o meno mi dici chi secondo te è stato all'altezza del momento e chi invece magari ha subito anche la pressione che sicuramente un derby ti metterà addosso cioè mi immagino quegli 80.000 intorno insomma faranno un po' no? Subito dopo questa canzone ancora qui con Sergio Miazzi parliamo di derby parliamo di Milan Inter se volete anche voi intervenire 331-78-535-555 soprattutto intervenite dammi una mano perché io vi ripeto non so assolutamente niente di quello che stiamo andando a raccontare quindi io do tutto in mano a Sergio in questo momento Sergio ha in mano le sorti di questo programma Sergio giusto così poca pressione no pressure no pressure no pressure zucchero vedo nero anzi vedo rosso nero giusto Sergio questa mattina vediamo tanto rosso nero vabbè allora però arriviamo a capire com'è che siamo appunto stamattina a vedere rosso nero quando se avessimo fatto questa trasmissione venerdì avremmo detto ma l'Inter sarà una passeggiata per l'Inter ma forse è esagerato adesso no 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 ma non è esagerato secondo me è proprio così l'Inter teniamo in considerazione a parte che è campione d'Italia è una squadra che ha fatto delle ottime performance l'anno scorso è arrivata in finale di Champions l'anno prima quindi sicuramente è una squadra diciamo da battere una squadra ovviamente messa bene in classifica ma soprattutto anche in campo e quindi questa è una squadra sicuramente forte è del tutto evidente che il Milan veniva da alcune delusioni vedi Liverpool e anche da un gioco abbastanza scadente ultimamente no quindi anche la difesa lasciava molti spazi incontrando l'Inter è del tutto evidente che insomma le paure c'erano i titoli che leggevo oggi a parte il gioco di parole con Gabbio ingabbiato c'era anche Fonseca si salva tipo e sì perché nel calcio si usa io sai che Fonseca penso ai De Fonseca le scarpe quelle lì le spadrilla scusate ma nel calcio si usa si usa se tu Fonseca è l'alletto del Milan ok ok ma non giocava tipo della Fiorentina una volta no non è lui nella Roma è stato allenatore della Roma allenatore della Roma non ha mai giocato a calcio no credo che abbia giocato sì sicuramente a calcio però non credo in Italia ah ok no non faccio un altro che sembra uguale no ma sai nel calcio poi si usa tu perdi perdi poi non fai ottime performance per tre partite già tutti parlano dell'esonero è una cosa incredibile e lui poverino ha passato credo una brutta settimana perché lo davano già fuori addirittura fuori si vinceva il derby no che sono delle cose che non so però comunque questo è il calcio insomma anche lì questo è il calcio però in Italia io mi ricordo adesso non so se mi ricordo che c'erano degli allenatori che sono stati vent'anni c'era quello famoso del Manchester non so quello lì qualcosa so non so perché ma qualcosa a macchia di lopardo so quello era stato l'allenatore non so per vent'anni tipo qualcosa del genere Ancelotti nel Real Madrid ah Ancelotti ecco ok Real Madrid è una corazzata per cui insomma vince tanto però avrà anche perso qualcosa ogni tanto avrà avuto anche lui delle crisi ma diciamo che c'è una cultura diversa negli altri paesi in Italia c'è la cultura insomma dello scoop dopo una partita già parlare è come quando finisce il calcio mercato il giorno dopo parli già del calcio mercato di gennaio è appena finito e quindi questo è un po' diciamo così è per fare notizia si cerca sempre ovviamente di trovare un'altra cosa di questo calcio che faccio fatica a capire sono le società nel senso che sono Milano e Inter per me erano Berlusconi e Moratti punto la chiudevo così la situazione oppure mi ricordo Pellegrini il presidente dell'Inter di quando ero bambino io ecco cioè adesso non so neanche chi siano Rizzoli Rizzoli storiche Agnelli con la Juventus nel senso adesso fai veramente fatica non so chi sia il presidente del Milano non la minima di chi sia allora il presidente del Milano è un americano cardinale ah ok di nome non di fatto ma sai tu sai che io sono abituato un po' a dire quello che penso non ti avrei chiamato esatto qui il vero problema che sta diventando sono diventati dei prenditori non degli imprenditori ah ok allora ci sono questi fondi che hanno svariati miliardi da poter spendere e le spendono ovviamente per fare business e tocca al calcio e tanto è vero che poi noi parliamo dello stadio di San Siro io volevo arrivare ma in realtà la cultura calcistica è pari allo zero è pari allo zero secondo il mio punto di vista mentre questi presidenti innamorati del calcio innamorati della città innamorati della squadra avevano passione e portavano passione anche ai tifosi poi mi ricordo che erano anche criticati forse per questo perché ci rimettevano troppo cuore poca testa a volte però io la sentimentale preferisco più cuore che testa il moratti interista mi è sempre stato molto simpatico ci ha messo sempre tanto cuore e molto portafoglio anche lui mi ricordo questa cosa ma era ve lo ricordate Prisco che era il mio cugino avversario lui avrebbe detto mai cugini ma Prisco era simpaticissimo era un interismo ma il suo interismo era simpatia era l'essenza del derby l'essenza della stracittadina la bellezza del calcio quindi insomma è proprio i tempi che cambiano è una cultura che comunque fa fatica mi sembra che i tempi che cambiano la cultura del calcio va avanti ma ad esempio il pubblico la nostra società non sia ancora pronta a questo cambiamento perché poi appunto non sei l'unico a lamentare di questi cambi un po' così di queste società che appunto prendono più che imprendere ma sì e no nel senso che magari le vecchie generazioni o comunque le persone che hanno vissuto un periodo storico particolare la pensano magari forse così ma altri no altri no pensano che tutto sia lecito che in funzione di una squadra di calcio si possa fare qualsiasi cosa e si debba concedere qualsiasi cosa credo che sia sbagliato bene come ad esempio magari costruire uno stadio bene parliamo dopo la prossima canzone perché non posso non parlare con Sergio che ricordiamo essere anche stato un amministratore locale quindi insomma la questione la conosci molto bene prima però ci ascoltiamo George Evra con Budapest e poi torniamo qui a parlare appunto di Sanse a questo punto di parlare per l'ennesima volta dello stadio di San Siro e Rosa Mazzotti terra promessa e ovviamente arrivano subito i whatsapp al 3317853555 con cantata tutta e beh queste le mettiamo le mettiamo a posta lo sappiamo lo sappiamo anzi grazie mille ancora l'ufficio programmazione a Beatrice che ogni giorno fanno la loro contrattazione non sindacale ma musicale e trovano le giuste canzoni per la nostra mattinata allora stavamo parlando di queste società che prendono ma poco imprendono mi è piaciuta questa cosa sono più prenditori che imprenditori mi è piaciuta molto questa uscita ma sì è così se ci pensate è così avevamo i vecchi presidenti che mettevano tanti soldi Berlusconi Moratti Pellegrini eccetera eccetera questi di soldi le mettono se ovviamente guadagnano e quindi la mentalità è totalmente opposta da quella passionale del gioco del calcio ed è questo che ci porta ancora a parlare di stadio perché c'è poco da fare questa operazione immobiliare a San Siro è tutt'altro che lo stadio punto ma infatti quello che in genere le persone insomma ognuno poi ha le sue opinioni ma che non capiscono è proprio questo il tema non è lo stadio l'ho scritto pochi giorni fa sulla mia pagina facebook il tema non è lo stadio il tema sono le volumetrie altre ok interessano volumetrie altre per fare business altro e quindi non è lo stadio non è che con lo stadio tu diventi ricco famoso e prendi pelè non è così hanno bisogno volumetrie giustamente un'amministrazione pubblica per dare delle volumetrie a poco costo ci pensa 800 volte perché una volta fatta la delibera una volta fatta la determina la corte dei conti potrebbe reclamare qualcosa e quindi ovviamente anche un sindaco è soggetto a un'indagine credo che nessuno lo farebbe ecco e infatti la situazione è quella che in realtà però in questo momento mi vengono in merito sono almeno tre sindaci che sono presi in considerazione perché c'è uno di Milano appunto che deve capire cosa fai qua Rozzano con l'Inter Sandonato con il Milan io poi mi permetto di dire una cosa conoscendo anche Beppe Sala sì diciamo Sergio tu hai fatto appunto politica per tanti anni l'hai fatto anche da amministratore locale del municipio 6 in quota appunto centrosinistra quindi sicuramente col sindaco hai avuto modo più più volte di incontrarti assolutamente sì quindi non è un segreto ma credo per quello che lo conosco è una persona assolutamente disponibile se quell'operazione non la vuole fare è perché non la può fare perché sa perfettamente che essendo delle volumetrie in capo ai cittadini ovviamente ci sono delle regole che devono essere necessariamente rispettate quello che un po' gli si contesta è il fatto però che non si capisca appunto cosa vuole fare cioè se è d'accordo se non è d'accordo a volte sembra quasi che voglio fare dei regali alle società altre volte invece le società lamentano che non si vuole sbilanciare dire cosa si può fare su quell'area guarda io credo che Sala sia sempre stato molto chiaro ma lo penso proprio nel senso che la cosa è molto semplice gli ha chiesto alle società volete gestire volete comprare lo stadio perché se il problema è lo stadio ve lo do no? patruiamo una cifra ci mettiamo d'accordo avete lo stadio per x anni e fate tutte le modifiche necessarie per poter avere lo stadio di proprietà ma le società hanno detto di no le società hanno detto di no quindi è del tutto evidente che per un'amministrazione pubblica avere uno stadio diciamo come San Siro che è la scala del calcio mondiale da tutto il mondo vengono a Milano i turisti per vedere la Madonnina e lo stadio di San Siro ricordiamo che il museo dello stadio di San Siro è il terzo museo più visto in città ecco quindi e questo credo che è la dica la dica lunga ma il problema è difficile gestione poi dopo se le squadre di calcio Milano e Inter vanno via da San Siro cosa ne fai di questa struttura e qui si è ipotizzato hanno ipotizzato tante cose che però sono tutte da mettere in fila e non sono scontate infatti perché quello del cerino in mano è la grande paura ed è anche la grande quasi ricatto che viene fatto io penso che un comune non può essere ricattato assolutamente il comune dei cittadini i cittadini hanno appunto in gestione la cosa pubblica e quindi va ovviamente donata ceduta prestata affittata nelle modalità necessarie come andrà a finire tu ti sei fatto un'idea non hai la palla di cristallo o meglio come ti piacerebbe che andasse a finire andasse a finire scusate come ti piacerebbe che potrebbe andare a finire e invece come potrebbe invece andare a finire allora intanto posso fare una piccola perché nessuno parla poi di San Donato e Assago che sono le due aree deputate una per il Milan San Donato e una per l'Inter Assago quella di Assago peraltro l'Inter non l'ha ancora credo opzionata insomma è molto indietro San Donato il Milan penso che l'abbia già opzionata comprata eccetera eccetera ma c'è un elemento secondo me che in genere non esce nella discussione per poter gestire una partita di calcio del Milan o dell'Inter in una cittadina così piccola hai bisogno dei servizi i servizi banalmente sono la polizia locale che fa traffico voi vi immaginate San Donato quanti vigili avrà e quanti ne dovrà avere per poter fare una partita alla domenica del Milan quindi io fossi diciamo così di nuovo in pista suggerirei alle società di ritornare al tavolo e di non applicare questi ricatti a Milano e ai tifosi del Milan e dell'Inter che non se lo meritano per nulla San Siro è il teatro ovviamente del calcio mondiale e secondo la mia opinione le due squadre dovrebbero rimanere a San Siro lì c'è la storia lì c'è la passione di milioni e milioni di cittadini milanesi e non solo anche italiani che tifano la loro squadra e quello del doppio stadio è appunto quello che molti dicono però poi cosa ce ne facciamo l'idea di costruire quello stadio di fianco all'altro l'altro sembra sempre più impossibile che venga abbattuto per fortuna viene da dire insomma so che ad esempio non esiste neanche un sistema ancora proprio inventato per smontare il terzo anello cioè sarebbe da studiare perché per come è stato costruito cioè nessuno ha pensato come si sarebbe dovuto smontare comunque una di quelle trasmissioni come grandi costruzioni ma intanto c'è un vincolo tanto per cominciare c'è un vincolo punto a capo quindi è di difficile risoluzione puoi lavorare sul terzo anello perché è l'ultimo elemento non storico che è stato costruito ma nello stesso tempo io faccio notare due cose che in genere non sempre si riescono a percepire primo demolire San Siro ha un impatto ambientale allucinante perché pensate quanti metri cubi di cemento devono essere smaltiti costruire un altro stadio a fianco a San Siro a me francamente sembra una follia perché hai uno stadio praticamente che potrebbe essere vuoto che potrebbe essere per altri tipi di situazioni e a fianco hai uno stadio totalmente nuovo di una squadra di calcio o di due squadre di calcio torniamo alla realtà la realtà è un pochino più diversa questa è la mia opinione poi insomma beh no chiaro c'è una grande discussione c'è una grande discussione ecco quello che un po' mi ha lasciato stare fatto in questa situazione è il famoso dibattito pubblico mi è sembrato un po' così una cosa fatta giusto perché andava fatta e ne è uscito poco almeno dal mio punto di vista diciamo che ultimamente i dibattiti pubblici sono sempre molto difficili no? e soprattutto nei contenuti fanno fatica a relazionarsi non so come dire l'abbiamo avuto per esempio col covid l'abbiamo avuto per la guerra l'abbiamo avuto per lo stadio no? è sempre difficile quando uno ha una posizione allora tu sei per no? no semplicemente una posizione tifoserie in questo caso in questo caso però usciamo io sono solo tifoso del Milan mi dispiace per i cugini dell'Inter però questo è quanto ok ok bene allora andiamo avanti con un po' di musica poi torniamo qui perché vabbè già che ci sono voglio capire un po' invece come sta andando questa Milano ai tuoi occhi dai già che ci siamo passiamo invece alla sponda politica abbiamo parlato dello sport siamo passati allo stadio che ci ha unito i due mondi passiamo alla sponda politica di Sergio Meazzi va bene così voglio capire un po' come va questa Milano questo modello Milano che tanto viene millantato raccontato chi dice che non va bene chi dice che invece è perfetto insomma cerchiamo di raccontarcelo e di capirlo meglio insieme appunto qui a Sergio Meazzi subito però prima ci ascoltiamo in UGENEA con Tiena te 331-78-53-555 Crystal Radio Good Morning Milano in UGENEA con Tiena te alle 8.46 minuti allora Milano Milano il modello Milano Sergio il modello Milano che ormai è dal 2015 che va avanti troppo vecchio ancora valido non ha mai funzionato funziona bene cosa ne pensa Sergio Meazzi ma dunque un'amministrazione pubblica una città come Milano una grande metropoli no è sempre difficile da governare non è sempre e questo ricordiamo perché non è per niente semplice l'ho provato diciamo sulla mia pelle cosa vuol dire diciamo dedicare dieci anni con passione alla cosa pubblica e all'amministrazione quindi non è facile tutti i cittadini vorrebbero una cosa ma insomma è difficile mettere d'accordo sempre tutto anche perché spesso quello che voglio io è il contrario di quello che vuoi tu quindi cioè quello parte uno dei due rimarrà deluso io penso tutto sommato ma credo che anche le performance dei turisti dell'economia è una città che è cresciuta tantissimo quindi questo è innegabile che sia una città vuoi per Expo vuoi per le scelte secondo me della prima giunta a Pisapia dove ha aperto Milano all'Europa com'è la sua storia com'è la sua natura Milano è sempre stata una città aperta al mondo e accogliente al mondo storicamente e quindi io credo che questo sia stato un po' il grimaldello che ha fatto partire la città ora hai delle situazioni che devi governare che secondo la mia opinione per esempio la prima cosa è il traffico e io personalmente potessi decidere farei una decisione drastica e cercherei laddove è possibile di sviluppare più corsie preferenziali per i mezzi pubblici anche a costo di ridurre la careggiata delle autovetture faccio un esempio se vi ricordate la 90-91 credo che si chiamino ancora così le linee sì sì la 91 ecco prima della corsia preferenziale era un delirio poter prendere questi mezzi io mi ricordo che dovevo andare in macchina perché andavo da quelle parti e era un problema perché i tempi erano enormi con la corsia preferenziale si sono dimezzati se non e finalmente verrà completata perché in questi giorni adesso venerdì hanno chiuso finalmente piazza Stuparic per nove mesi chiusa per fare la nuova per finire la corsia preferenziale finalmente e credo che sia uno dei temi della Milano Futura la mobilità la cosiddetta mobilità da ovviamente rilevare la M4 chiaro ragazzi M4 San Cristoforo Linate 15 minuti sapete cosa vuol dire vuol dire che tutti quelli che arrivano dall'aeroporto di Linate come Madrid come in tutte le grandi città mondiali possono perdere la metropolitana e transitare tranquillamente in città passando dal centro ma anche dalle cinture urbane non amo chiamarle periferie perché Milano non ha periferie ma cinture urbane c'è tutto uno studio su questo io sai che non sono mai stato d'accordo perché invece su me periferia è anche bello perché sta periferica ma non necessariamente è brutta o trasandata no ma io feci un convegno proprio con una che diceva che a Milano esistono le periferie perché semplicemente tutti le cinture urbane toccano il centro di Milano ah ok e quindi non hanno la divisione come può essere Roma tra allora lì periferia perché poi c'è un pezzo e poi c'è il centro ah quindi in realtà sei già in centro sei già in centro ed è vero sì e poi soprattutto ricordiamo sempre spesso volentieri poi parliamo di zone che prima erano comuni prima erano borghi quindi c'è in realtà che hanno un loro centro spesso volentieri che vivono anche una loro centralità questa cosa dei turisti però te la devo un attimo perché anche domenica no sabato scusa sabato alla festa per i 50 anni del bosco in città sì da Cossala appunto avevo parlato ha detto Milano i suoi 10 milioni di turisti all'anno e tutto e un po' il mugugno è salzato dicendo va bene pensiamo ai 10 milioni di turisti ma al milione e 400 mila abitanti incomincia a non pensarci più troppo soprattutto appunto in questa cintura urbana come la chiami tu questo tema però sono anni che ci portiamo avanti cioè le periferie lontananza dal centro di una città poi abbastanza piccola come Milano cioè da un punto di vista geometricamente non tanto grande Milano non è grande tutto sommato io per lavoro diciamo bazzico in altre grandi città italiane quando torno a Milano Milano mi sembra veramente servita molto bene e anche le cinture urbane della città sono mediamente più vivibili delle altre periferie di altre città questo è un punto sul quale diciamo credo che non ci siano discussioni anche i servizi no sono in cintura urbana se tu prendi il tram prendi l'autobus poi ci sono dei ritardi legati al traffico ok ma tutto sommato il servizio esiste cioè ATM fa un servizio diciamo pregevole così come per esempio lo fa AMSA AMSA è studiata negli Stati Uniti per la sua sistema di raccolta dei rifiuti da New York hanno detto ad AMSA ma come fai tu in una città come Milano a prendere i rifiuti porta a porta facci capire quindi ci sono delle eccellenze che molto spesso noi non promuoviamo e questo secondo me è molto sbagliato poi ovviamente è una città che però deve vivere di qualcosa deve vivere è una città post-industriale fabbriche non ce ne sono più e quindi ovviamente lavora su altri tipi di dimensioni altri tipi di economia come per esempio il turismo io qui rilevo e chiudo perché non voglio farla lunga però che il tema non è il turismo sono le strutture che molto spesso sono in mano agli stranieri per esempio strutture alberghiere in Italia non abbiamo una struttura alberghiera io credo che lo Stato e quindi non il Comune debba poter incentivare ovviamente questi tipi di relazioni l'Italia è una città turistica ma non avere strutture alberghiere mi sembra veramente uno simoro ah chiaro non esiste il grande gruppo alberghiere italiano non c'è sono tutti gli stagniere effettivamente lavorerei molto di più sul turismo per dare anche servizi e per alleviare le sofferenze dei cittadini chiarissimo andiamo con l'ultima canzone e poi torniamo qui con i saluti sempre qua con Sergio Mirazzi Milano insomma il modello Milano mi ha parlato tanto dai avanti con l'ultima canzone e poi torniamo qua con i saluti Sergio non scappare Silvester con You Make Me Feel siamo qui per salutarci e quindi non posso per altro che chiamare la nostra sigla 8 e 55 minuti lunedì 23 settembre siamo arrivati alla fine di questa puntata di oggi di Good Morning Milano con Sergio Meazzi grazie a tutti buona 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 giornata per me sarà una bella giornata per tutti i tifosi rossoneri ma anche i tifosi interisti la devono prendere con filosofia come sempre nel calcio nella vita avrei voluto vedere se al contrario si dicevi la stessa frase forse no facile fare l'interista con la maglia degli altri però è bella sì sì assoluto comunque se volete sapere un po' di più su Milano oltre ad ascoltare Good Morning Milano e Cristian Radio seguite Sergio Meazzi sui social perché spesso e volentieri fai delle belle digressioni su cosa è la città insomma do una mia opinione ci provo opinioni posso dire il mondo è pieno di opinionisti che opinionano su cose inutili infortuna tu opinioni su cose utili e dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa come sempre nel 9.05 dopo il giornale radio la grande musica raccontata dalla voce preparatissima e competentissima di Ambrogio Curti grazie ancora allora Sergio ci sentiamo presto molto volentieri grazie a voi grazie per avermi spiegato il derby di cui io completamente è stato un vero piacere un vero piacere grazie Sergio le voci che avete sentito questa mattina sono quelle di Silvia Gatti Sergio Meazzi e poi Fabio Ranfi in regia Ginevra alla redazione al buttoni a tutto quello di questa smissione Beatrice grazie mille a tutti rimanete qui Cristal Radio continua ciao domani grazie a tutti